Lunch match piccante al Via del Mare, Lecce e Verona sfida a salvezza. Sono in sei a saltare i giocatori dell'Ellas, Lazovic si muove in anticipo, Duda, il cross diventa un tiro, palla sopra la porta di Falcone che controllava in tuffo. Palla che rimbalza sul rinvio di Falcone, rischia Ciacciua, banda, para Montipò in due tempi. Magnani, viene centrale Suslov, imbucata tra le linee per Folor, un show col sinistro! Micidiale, Michael Foloruso, minuto 17, passa a condurre il Verona. Il sinistro anche deviato, trova il quarto gol, il campionato in questa Serie A Team, il numero 90. Banda, vuole la finta su Nosven, tiene bene il numero 17 che vince il primo duello. Poi c'è il cross che diventa un tiro da parte di Udan, la presa Montipò. Udan va di prima intenzione, prende la parte superiore del montante. Forte in avanti per Gallo che ci può arrivare, la mette subito, il gran pallone, secondo palo. Alquista, se la vuole spostare, va col sinistro! Traversa anche per Alquista, mani tra i capelli per il giocatore svedese. Giandré per González, buona idea, cross in mezzo di González, Krustovic! La parata di Montipò, gran riflesso! Udan, la posizione sembra regolare degli avanti del Lecce, sbaglia tutto Montipò. E allora Krustovic col pallonetto, non c'entra la porta, brivido con l'uscita sbagliata di Montipò. Duda, di prima, Svidersky scoperto il Lecce, vuole subito andare da Enrique Calcia. Tiro debole, Falcone, para. Cala il sipario, il Verona centra, tre punti fondamentali per la lotta a salvezza. Vince 1-0 al Via del Mare contro il Lecce, decide Foloruncio. C'è un cartellino rosso per Henry, espulso Thomas, Henry, si becca il cartellino rosso a tempo scaduto. Gli altri giocatori del Verona sotto la curva ad esultare. Grazie. Grazie.